Angelo Ciminelli è il presidente della Federazione Italiana Sport Invernali Abruzzo che ha organizzato questo convegno dedicato alla legge sullo sport, alle novità e alle prospettive in collaborazione con la Regione Abruzzo. Le chiedo, novità e prospettive quali sono? Sì, novità e prospettive, innanzitutto la nuova legge che è entrata in vigore da poco il 1 luglio le prospettive le abbiamo viste insieme in quanto oggi con questo importante convegno si sono chiariti alcuni dubbi sia per le federazioni che per le associazioni sportive. L'importanza della nuova legge sullo sport, le novità e le prospettive analizzate in questo convegno che con la Federazione dei Sport Invernali del presidente Angelo Ciminelli in Abruzzo avete fortemente voluto. Sì, ci sono dei vulnus da chiarire o almeno degli aspetti da chiarire, certamente l'onorevole Perissa sarà la persona giusta per chiarire degli aspetti che soprattutto per quanto riguarda l'ambito degli sport invernali non è tutto semplice da interpretare. Per il resto la regione Abruzzo si conferma la regione dello sport e dei grandi eventi laddove natura, valori dello sport e indotto socio-economico fanno la differenza. Oggi chiaramente c'è una regolamentazione di un ambito che da tempo aspetta leggi chiare e soprattutto prospettive. Grazie